Siamo in via Latina, oggi è il 31 maggio, finalmente è il D-Day. Sono entrati due nuovi concorrenti all'interno del Grande Fratello. Allora sono Paolo e Laura. Siamo in forma, tutti schierati, pronti. Ma tu guarda, io mi sto spiegando. Olé! Vedendo i sei in nomination. Però chi è organizzato? Sicuramente è cristiana perché ha toppato in pieno. Il prete ci sa? Ma padre Mariano, umma umma. Beh, Laura, sessualmente parlando non lo so. Dai, allora questa rimane fra noi e nessuno la vedrà mai. Alla notte, dove viviamo in quarta nella stessa stanza. Sono un po' felice, un po' mi sento male. Dovete rispettare le regole con molta attenzione. Hello everybody, hello everybody, we want to go! Campilio, Berlino, Vodka Lemon! Sto figlio che si sposa. Guarda, sono così contento. Sei innamorata? Sì. Di chi? Di Paolo Russo. Se nevica dei 22 marzo, che sposa. Vorrei tornare su Paolo, il ragazzo che è stato sospeso dal grande fratello. Allora, Paolo è entrato. All'inizio sembrava anche essersi integrato con il gruppo. Nominiamo Paolo perché si è sposato. Sei tu a decidere chi deve abbandonare la casa. Chiama o invia un sms al numero 48421. Alessia, veramente è difficile questa settimana votare qualcuno. A sabato 31 maggio. Io ci sarò. E voi? Grazie. 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 Grazie.